Come si rappresenta il Birificio Epica? Come si rappresenta il Birificio Epica? Come si rappresenta il Birimento che si chiama Cerere, una birra appunto alla Dea delle Messie, abbiamo una Belgianel, una birra nuova di stile belga molto più dolce e poi abbiamo una Stout, un'Infero Stout, una birra nera. Mi sono dimenticato di dirvi che la Epica viene dai nostri tre nomi, Elio, Piero che sono io e Carmelo, è un'amicizia lunghissima. Abbiamo coniato lo spot che incalza benissimo, da un'amicizia mitica a una birra epica.